ciao 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 dove andiamo togno dove andiamo alla gava alla gava che se andiamo alla gava poi scendiamoci da là c'è il presidente bagnola le balle la bella penso che se dovessimo fare i tre cinghiali troviamo dei soldi guarda quello che troviamo troviamo attenzione ma l'abbiamo già fatta mi sembra la gava una volta l'avevamo fatta una volta ma molto bene ma per così poco al limite si case vai 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 tonio non ti fa problemi secondo me è ancora peggio perché c'è umido ci porta a pascolare però mi cagli il cazzo ma io oggi sono handicappato uno stanco poi c'è umido ebbene non ti sei più ripreso un po' è la madonna che aveva sbagliato qua l'altra volta qualche d'uno aveva sbagliato l'altra volta vai vai l'ho sbagliato strada non è che possiamo aspettarvi tutto il giorno ho detto ma come cazzo ha fatto luca a passare qua in mezzo poi lì ho capito dopo che era l'altra strada ho sbagliato va vera l'altra volta gli era successo qualcuno mi sembra danilo era successo era successa lui che l'avevamo perso comunque non sta piovendo mi sa che ce l'andiamo proprio a cercare voglio fare una ritirata strattesica voglio ritirata strattesica tanto noi ce ne vuole stendere non ce ne buttiamo il cazzo di quelli che c'è il sangue dal naso io non avevo detto che è il problema adesso cosa facciamo? facciamo la zingara ma il tempo che facciamo la zingara ci facciamo anche la doccia poi 16 chilometri l'abbiamo già fatta e abbiamo pedalato ma no guarda vedrai che si strebba si no guarda si strebba secondo me più di così non va poi può darsi che mi sbagli ultima volta che qualcuno mi ha detto una cosa del genere ma dai ma prendiamo un po' d'acqua ci rinfreschiamo dopo tanto caldo finito tutto guarda piove basta fulmini non ce n'è poco dopo quindi ci mettiamo la giacca? nooo aspettiamo che passa due giorni dopo ci mettiamo la giacca o no? ma io mi metto bene ho sette si effettivamente è bella lì ce n'è un'altra solo che con l'acqua che è venuta è un bel dono ha portato via un po' tutto eh mi do giacca si imbrutta dai vabbè allora mettiamo questa casa di giacca si imbrutta se lo fa il fosse grande che è quella più corta nuova dove c'è un paio di pezzi però lì a te io già con questa luce qua non ci vedo più un cazzo non ci vedo qua davvero benissimo E' lì bello! mi chiama non ci vedo veramente un cazzo è un po' di questo eh? è un po' di questo eh la roccia c'è roccia, radici, sì ma così è peggio così imbeciolate, più piano si va peggio minchia che buio perché non ti sei arrampicato qua? ragazzi ci avete il freno a mano tirato oggi grazie 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 oh comunque sarà ma la mia mi dà ottime sensazioni grazie lì è perfetta grazie sì è meglio bella comunque grazie e finirono sotto un ponte c'è la mano è un piove qualcuno ha detto facciamo più le docce sono quelle che arriviamo ora e poi basta è venuto sul mondo è venuto sul mondo è venuto sul mondo qui siamo venuti giù una debacca intradibile quindi è venuta veramente oh comunque Dani di tutti gli anni di tutti gli anni che ci siamo frequentati la prima volta che la prendiamo così così è la prima volta ma io avevo detto che pioveva quindi non è aspettiamo ancora dieci minuti ma per me guarda per me va bene tutto ma per me ma per me ma per me la prima volta è venuta la prima volta la prima volta la prima volta è venuta la prima volta la prima volta che succede? andate 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 guarda il primo vieni la prima volta che succederemo la prima volta anche il primo è venuta andate l'immagine e l'immagine Grazie a tutti